Ciao a tutti e benvenuti al nostro oroscopo per oggi, primo agosto. Oggi esploreremo cosa le stelle hanno in serbo per voi in amore, lavoro e salute. Ciao Ariete. In questo momento, il silenzio è la migliore medicina per curare le ferite di un rapporto. È il momento di riflettere in silenzio su cosa non è andato bene in passato. Se sei single, prenderti una pausa può essere la scelta giusta per tornare con i piedi per terra. Dedica almeno due ore al giorno al relax, spegnendo lo smartphone e rallentando il ritmo delle tue attività. Nel lavoro, gli ultimi sviluppi potrebbero non essere stati incoraggianti, ma la situazione finanziaria ti spingerà a continuare a impegnarti con determinazione. La mente è in continua evoluzione, ma tutto dipende da come viene stimolata. Se continuate a guardare notizie negative, è normale sentirsi demoralizzati e tristi. Iniziate questo nuovo mese con lo spirito giusto e concentratevi sugli aspetti positivi. Giovedì sarà perfetto per considerare un nuovo e entusiasmante progetto. Durante questo mese, guadagni, lavoro e amore saranno al centro di molte novità. Valorizzatevi di più e controllate la vostra irritabilità, che potrebbe emergere improvvisamente. Ciao Toro Per ottenere una piacevole serenità di coppia, inizia a guardarti dentro per trovare le risposte. Siamo la proiezione di noi stessi all'esterno e ciò che circola in noi emerge inevitabilmente. Essere sereni interiormente porterà a una relazione positiva e armoniosa. Se sei single, il tuo corpo e la mente sono in perfetta sintonia, garantendoti uno stato di benessere generale che si riflette anche nell'aspetto esteriore. Continua su questa strada di equilibrio interiore e vedrai quanti risultati positivi arriveranno nella tua vita. Nel lavoro, sarai preso a modello da molti e otterrai il riconoscimento anche da un superiore. Con il passare del tempo, scoprite nuove realtà su voi stessi e sugli altri. Le difficoltà vi hanno forgiato, nonostante le ferite. Le preoccupazioni e le ansie degli ultimi mesi spariranno gradualmente. Queste 24 ore potrebbero essere buone o cattive, dipenderà da vari fattori. Avrete da ridire su alcune scelte passate. I cuori solitari desiderano innamorarsi come una volta, ma il tempo per l'amore e la passione arriverà. Ciao gemelli. L'oroscopo del giorno preannuncia un inizio mese davvero positivo. Stai attraversando una fase meravigliosa della vita, soprattutto in amore, caratterizzata da un forte coinvolgimento con il partner. Gli astri ti sostengono nelle tue scelte, quindi approfitta del momento e agisci senza timori. Se sei single, questo è un periodo favorevole per chi desidera avviare un progetto amoroso di lunga durata. Presto potrebbero arrivare proposte inaspettate che avranno esiti positivi nel prossimo futuro. Ti sentirai pieno di energia e voglia di amare. Il momento è ideale anche per mettere in atto qualche buon piano lavorativo, agendo con coraggio verso ciò che più sperate. Marte ti fornirà l'energia necessaria. Siete bloccati. In questo periodo non è semplice creare relazioni costruttive. Essendo un segno altamente socievole, siete tra i più penalizzati. La mancanza di contatto umano vi causa insonnia e incubi. Le notizie negative vi preoccupano per il futuro. Cercate di allontanarvi da chi prevede solo disgrazie, altrimenti continuerete ad avere difficoltà. Liberatevi delle cose negative e circondatevi di progetti entusiasmanti e persone positive. Così, giorno dopo giorno, ritroverete il sorriso. Ciao Cancro. La luna in entrata nel segno ti trasporterà sul pianeta dell'amore. Tutto andrà per il verso giusto, con ria pacificazioni e nuovi progetti per il futuro di coppia. Non ti resta che rilassarti e goderti questa splendida giornata di inizio agosto, insieme all'amato bene. Se sei single, in questo periodo ti senti particolarmente affascinante. La tua fiducia raggiungerà l'apice, contagiando le persone che ti circondano, magari anche regalando qualcosa di speciale. Sul lavoro, mettiti comodo e goditi questo momento estremamente positivo. Gli obiettivi che hai puntato da tempo saranno finalmente alla tua portata, è il momento giusto per afferrarli e realizzare qualche sogno. L'oroscopo del 1 agosto indica che ripartirete con il piglio giusto e uscirete dal tunnel in cui siete rimasti incastrati per molto tempo, ritrovando speranza e sorrisi. Agosto è sempre stato un buon mese per voi e anche quest'anno lo sarà. Rialzerete la testa e vi ribellerete a chi vi ha infastidito ingiustamente. La giustizia trionferà. Chi ha subito rotture o perdite troverà nuova linfa vitale e tornerà a brillare. Siete perfetti così come siete, quindi non cercate di cambiare per piacere agli altri. La vita è preziosa, fate ciò che vi entusiasma. Ciao Leone. Questo giovedì gli astri sottolineano la presenza di un partner affettuoso e sincero nella tua vita. La fedeltà e il rispetto saranno i pilastri della vostra relazione, rendendoti un compagno speciale. Attualmente, desideri vivere momenti di passione intensi con la persona amata, apprezzando ogni attimo trascorso insieme. Se sei single, la tua capacità di comprendere gli altri e le tue doti comunicative ed empatiche ti permetteranno di ottenere ciò che desideri e fare colpo su chi ti interessa. La giornata sarà favorevole per prendere decisioni importanti riguardo al lavoro e risolvere un problema che ti ha dato del filo da torcere. Avrete una giornata fremente. Il vostro carisma emergerà. Siete migliorati molto nei primi mesi del 2024, diventando più forti e sicuri di voi. Questo periodo ha rafforzato la vostra autostima. In queste 24 ore riceverete annunci importanti. Prossimamente, obiettivi e soldi saranno al centro dell'attenzione. Chi ha perso il lavoro o ha difficoltà a ripartire dovrà reinventarsi e trovare un buon sistema per rilanciarsi sul mercato. Tenete la mente aperta e flessibile. Ciao Vergine. L'oroscopo di domani, primo agosto, preannuncia un aumento del buon umore, che sorprenderà piacevolmente il tuo partner. Risveglierai la gioia di stare insieme, avvolto in un'atmosfera romantica e vivendo una giornata idilliaca con la persona amata. Se sei single, sarà facile fare nuove conoscenze grazie a un'influenza astrale favorevole. La mano del destino ti guiderà verso avventure amorose appassionanti e potresti avere l'occasione di testare una recente relazione, che potrebbe sfociare in qualcosa di più serio e duraturo. Sul lavoro, nonostante l'esperienza limitata, darai l'impressione di essere un esperto nel tuo ruolo, mostrandoti competente e professionale. Periodo difficile. Forse non vi siete ripresi dagli ultimi eventi e vi sentite confusi. Questo primo agosto vi invita a guardare avanti. Riponete maggiore fiducia nel futuro e smettete di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Tutto parte dalla mente, se seminate gioia, raccoglierete felicità. I successi richiedono tempo, ma presto l'incertezza sarà solo un ricordo. Alcuni potrebbero sentire nostalgia di un vecchio amore, ma è tempo di voltare pagina a partire da questo giovedì. Ciao bilancia. La giornata potrebbe essere poco produttiva, con un andamento sottotono o potenziali momenti di instabilità. È meglio restare in disparte e evitare situazioni complicate. In amore, cerca di evitare discussioni con il partner per non mettere a rischio l'armonia della relazione. Accetta i cambiamenti che potrebbero presentarsi, ma fallo senza esitare. Se sei single, scegli una compagnia che ti faccia stare bene e non sforzarti di adattare il tuo carattere a situazioni che non ti piacciono. Nel lavoro, esprimi il tuo parere sulle situazioni che conosci bene, ma fallo in modo da non sembrare polemico. Le previsioni astrologiche rivelano una giornata ideale per sistemare conti in sospeso. Avete ritrovato l'amore e la voglia di fare, nonostante alcuni momenti di vulnerabilità. Le buone abitudini portano al successo. Bisogna sempre lottare e osare, chi non risica non rossica. Cercate di rompere il ghiaccio. Non aspettate che gli eventi decidano per voi. Anche se l'attività è in stand-by, agosto porterà novità che vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Ciao Scorpione! Il prossimo giovedì promette di essere particolarmente positivo. La tua inventiva e il tuo impegno saranno ben accolti e porteranno a risultati soddisfacenti. In amore, ti sentirai particolarmente affiatato con il partner, riscoprendo l'armonia e la complicità di coppia. Se sei single, una buona notizia ti darà l'energia per avviare nuove amicizie o instaurare legami significativi. Sfrutta il momento per esplorare eventuali novità nel corso della giornata. Nel lavoro, raggiungerai i tuoi obiettivi con determinazione e un pizzico di fortuna, iniziando a vedere i frutti dei tuoi sforzi tra non molto. Alcuni giorni tutto attorno a voi sembra sbagliato, in altri invece pensate di essere voi il problema. In famiglia ci sono continue discussioni, portandovi all'esasperazione. Fate orecchie da mercante e continuate per la vostra strada senza litigare. Fortunatamente, troverete un po' di tregua. Anche chi vive da solo e attende qualcosa, potrebbe ricevere una sorpresa. Ciao Sagittario. L'oroscopo del primo agosto suggerisce un inizio di mese che potrebbe portare alcuni contrattempi, ma non tutte le difficoltà sono negative. Alcune situazioni inizialmente poco positive potrebbero rivelarsi benefiche nel tempo. Concentrati sugli aspetti positivi per affrontare al meglio la giornata. In amore, la gelosia potrebbe creare tensioni, mantieni la calma e non lasciarti sopraffare dalle crisi nervose. Se sei single, rifletti attentamente su ciò che sembra un grande amore e valuta bene prima di prendere una decisione. Nel lavoro, sarà una giornata dinamica con molte attività da gestire, rimani concentrato ed evita distrafare. In un rapporto sono necessarie tenerezza e comprensione reciproca. Eliminate le relazioni distruttive e a senso unico. Sfruttate queste 24 ore per stilare un piano accurato da realizzare appena possibile. Questa giornata sarà perfetta per mettere tutto a posto e liberarsi del superfluo. Quella sensazione opprimente sparirà magicamente e avrete un agosto increscendo. All'orizzonte si intravedono nuove conoscenze per i single. Bene l'amore coniugale. Ciao Capricorno. La giornata di apertura del nuovo mese di agosto si prospetta positiva e senza problemi particolari. In amore, ti circonderai di un clima ottimistico, il che avrà un effetto favorevole sulla tua relazione. Se hai questioni personali da risolvere, agisci con decisione e non tergiversare troppo. Se sei single, dedica tempo a te stesso e alle tue passioni, approfittando del momento per avviare nuovi legami. Nel lavoro, la grinta e il dinamismo porteranno presto cambiamenti positivi, a condizione che siano supportati da buone idee. Diligenti e efficienti. Sarete molto concentrati e riuscirete a gestire tutto al meglio da questo giovedì. Sarà il mese della ripresa. Anche chi ha perso il lavoro vedrà la luce. Adattatevi e cercate di inventare qualcosa che vi distingua dalla concorrenza. Avrete energie a volontà e farete cose interessanti. A partire da questa giornata, ritroverete il sonno e la voglia di amare. Avrete un lieve miglioramento nel rapporto con il partner aprirete uno spiraglio nell'interazione con la famiglia, ma presterete ancora moltissima cautela per evitare di scottarvi con argomenti molto importanti e delicati. Ciao Acquario. Il giorno in analisi si prospetta ottimo in ogni contesto e sarà assai favorevole al tuo segno. Godrai di un periodo sereno, sia con il partner che con i familiari. Avrai l'opportunità di risolvere situazioni stagnanti, in primis quelle che ultimamente hanno tenuto col fiato sospeso. Se sei single, la ricchezza interiore favorirà nuove amicizie e potenziali amori. Prenditi del tempo per analizzare il carattere di una persona speciale. Nel lavoro, potresti ottenere riconoscimenti e avere successo, preparati a nuove responsabilità e inizia a risolvere eventuali incognite. La felicità si trova nelle piccole cose, e voi lo sapete bene. La vostra fantasia sarà straordinaria, inoltre, vi sentirete brillanti e uniche. Supererete i vostri limiti mentali. Saturno vi darà le armi necessarie per vincere la vostra battaglia personale. In questo periodo, avete due pensieri in mente, soldi e lavoro. Agosto porterà emozioni e sorprese, rimboccatevi le maniche. Da qui a domenica potrebbero arrivare nuove richieste d'amicizia. Ciao pesci! L'oroscopo del giorno prevede uno splendido inizio mese. La giornata sarà quasi perfetta, con gli astri favorevoli in ogni aspetto. In amore, apprezzerai la forza e l'armonia del rapporto e presto potresti pianificare un viaggio romantico. Se sei single, il momento è propizio per esprimere ogni bella emozione, specialmente se nascosta nel cuore. Goditi il tempo a disposizione con gli amici più cari. Nel lavoro, riscuoterai consensi e gli affari andranno bene, in vista un notevole miglioramento della tua immagine sociale. L'oroscopo di domani prevede alternanza tra momenti di gioia e vulnerabilità. La vostra sensibilità è accentuata in questo periodo, ma Nettuno vi supporta nei vostri propositi e movimenti economici. Non sprecate questa giornata perché potreste togliervi delle piccole soddisfazioni. Aspettatevi una chiamata o un messaggio da una persona importante. La voglia di partire e di lasciarsi andare all'amore sarà alta. Le coppie saranno felici, mentre i cuori solitari dovranno attendere luglio-agosto. Nel lavoro e nella finanza, inizieranno a vedersi dei movimenti positivi.